Oggi. Senz'altro, buongiorno a tutti. Sì, il ruolo dell'avvocato non è un ruolo di prevenzione, l'avvocato normalmente non interviene in una fase di prevenzione rispetto agli eventi infortunistici. L'avvocato arriva dopo, quando l'evento si è già verificato, quando il lavoratore ha subito una perdita della sua integrità fisica o addirittura nei casi più gravi si è verificata una morte. E' chiaro che il ruolo dell'avvocato è quello di gestire, come diciamo noi, le conseguenze dell'evento. Ci sono due tipi di intervento degli avvocati. Gli avvocati intervengono o quando nell'ambito della ricerca dei responsabili dell'evento si apre un procedimento penale dove ad agire lo Stato, la Procura della Repubblica, si fanno le indagini, si cercano le cosiddette responsabilità individuali di chi doveva fare e non ha fatto oppure di chi ha fatto male. Poi si apre un'altra fonte, un'altra strada, che è quella della responsabilità patrimoniale. Bisogna risarcire il danno. Ecco, io sono un avvocato del lavoro e quindi mi occupo di questa seconda strada. La strada che si apre in termini puramente economici, ma risarcire il danno non ha nessuna efficacia di reversibilità dell'evento. Il lavoratore ha perduto un arto, avrà dei soldi, ma non avrà mai più l'arto. Il lavoratore deceduto lascia nei congiunti un ricordo che si protrarrà negli anni e probabilmente non si lenirà mai. Non bastano i soldi a risarcire il danno. Allora, quando mi sono posto nella prospettiva di valutare che cosa fare, che cosa dire in questa occasione, in questa opportunità per commemorare una tragedia di dimensioni enormi, verificatesi cento anni fa, ho pensato di fare una riflessione condivisa su tre episodi, tre casi che realmente mi sono toccati nell'ambito della mia vita professionale e che hanno, come si suol dire, lasciato il segno anche a me e da cui ho tratto io per primo un insegnamento che cerco di trasmettere soprattutto ai più giovani. L'insegnamento è basato principalmente sull'importanza del fattore umano. Fattore umano che gioca laddove si parla di affidamento e di fiducia. Affidamento e fiducia negli altri o affidamento e fiducia in se stessi. Perché ricordate che il fattore umano è determinante e la fiducia negli altri in se stessi genera sicurezza. Ma non sempre questi termini si coniugano e i casi che vi racconterò sono proprio casi nei quali parliamo di affidamento tradito. Il primo caso del quale voglio parlarvi è il caso dello svio di un treno, del deragliamento di un treno. Deragliamento di un treno che vede la dimostrazione di come a volte si muore anche perché ci si fida di qualcuno che non si conosce assolutamente, che non è il datore di lavoro, che è un lavoratore che opera in un contesto diverso, in una fabbrica diversa, in un paese diverso, addirittura in un continente diverso. Immaginatevi questo scena alle 5.28 di un mattino, un treno ad alta velocità che sta andando nella pianura padana, condotto da due macchinisti, una trentina di passeggeri addormentati. Questo treno ad alta velocità arriva in prossimità del deviatoio numero 5 di una cittadina lombarda e improvvisamente perde i binari e anziché seguire il percorso e il tragitto che lo dovrebbe portare a Milano, entra in un, come si dice, troncone ferroviario, un cosiddetto binario morto e naturalmente deraglia. L'alta velocità impedisce ai macchinisti qualsiasi manovra, i due macchinisti dall'impatto vengono addirittura sbalzati fuori dal treno. I passeggeri miracolosamente riescono a cavarsela con qualche frattura e poca contusione. Parte immediatamente una attività di indagine da parte della Procura della Repubblica ma anche da parte di quegli stessi che operano la rete ferroviaria. Si cerca di capire come sia possibile perché il comando dei binari è un comando che viene effettuato con dei controlli di sicurezza assolutamente certificati e garantiti. Pare a tutti impossibile che ci possa essere un deviatoio che non ha funzionato. Ed ecco che gli accertamenti che sono fatti dagli tecnici e dagli specialisti danno questa ricostruzione degli episodi. Voi dovete sapere che il meccanismo di deviazione degli scambi ferroviari, un po' come quelli del Trump che sono più vicini a noi, si basano su un sistema di controllo oleodinamico. Che cosa vuol dire? Che c'è una centralina oleodinamica alla quale sono coniugati dei braccetti che spostano banalmente a destra o a sinistra il deviatoio per permettere così che il binario, anzi il veicolo sul binario segua una certa traiettoria o una certa altra traiettoria. Queste centraline oleodinamiche a cui sono collegati i braccetti hanno al loro interno degli apparecchi che si chiamano attuatori. Gli attuatori sono grandi come una scatola da scarpe e hanno al loro interno dei fili e dei connettori che servono per far sì che l'impulso elettrico si trasformi in movimento dei braccetti. Quindi l'impulso elettrico va in una certa direzione, il braccetto si sposta verso destra e ovviamente il binario, anzi il deviatoio va verso destra, opposto va verso sinistra. All'interno di questi attuatori ci sono 18 cavi, cavi che sono coniugati ad altrettanto morsetti. Cavo numero 1 deve andare con il morsetto numero 1, cavo numero 2, morsetto numero 2, non ve li elenco tutti, potete immaginare che la logica è banale. Emerge anche che quella notte prima del disastro ferroviario vi è stata una squadra di manutentori che è intervenuta proprio sul deviatoio numero 5 a cambiare alcuni attuatori. Cosa è emerso? Che in un'altra fabbrica, in una fabbrica di una importante industria multinazionale che ha una forte presenza in Italia, c'è stato qualche mese prima un operaio il cui compito era realizzare gli attuatori. Doveva mettere il cavo numero 1 nel morsetto numero 1 e così via, ma ha messo il cavo numero 16 nel morsetto numero 18 e il cavo numero 18 nel morsetto numero 16. Inspiegabile, ma è avvenuto. Primo errore. Ma la cosa è che ovviamente trattandosi di componenti che sono funzionali alla sicurezza della circolazione ferroviaria c'è un meccanismo di collaudo molto rigoroso, quindi ogni attuatore è soggetto al controllo e al collaudo da parte di una figura che ha una checklist e deve attestare che fa collaudo uno su uno, che il cavo numero 1 è il numero sul morsetto 1, 2, non ripeto e incredibilmente il collaudatore compila la checklist e dice che tutti i cavi, tutti i morsetti sono coniugati correttamente. Secondo errore, assolutamente inspiegabile. Terzo errore, il gruppo di manutentori che nella notte prima dello sviamento, del deragliamento del treno ad alta velocità, che fa questi cambi, deve fare quando finisce il meccanismo, finisce l'intervento manutentivo, devo fare, non me lo ricordo mai, la cosiddetta prova di concordanza del sistema oleodinamico. Cosa significa? Che dopo aver fatto l'intervento di manutenzione deve provare che quanto ha sostituito corrisponda, deve dare l'impulso e quindi deve vedere che il deviatoio si sposti verso destra, quando deve spostarsi verso destra e quando deve spostarsi verso sinistra altrettanto. Incredibilmente vengono montati quegli attuatori. e non viene fatta la prova di concordanza del sistema oleodinamico. La sintesi che cos'è? Vedove, orfani dei due macchinisti, per tre colpe, per tre negligenze, per tre disattenzioni, io non saprei come chiamarle, che si sono verificate una dietro l'altra e che hanno determinato questo tragico evento. Il secondo episodio è un episodio, un secondo fatto più tradizionale. Siamo in questo caso in un affidamento che viene riposto nei confronti del datore di lavoro che non fa quello che deve fare. Immaginatevi un grande stabilimento industriale del centro Italia. Un stabilimento industriale dove si fa lo stampaggio della lamiera. Lo stampaggio della lamiera avviene attraverso delle presse che hanno una parte, sono presse di grande dimensioni, hanno una parte sottostante che fissa, su cui viene messo lo stampo, la lamiera, e una parte sovrastante mobile che scende e per il peso e per gli ingranaggi e meccanismi fa sì che la lamiera prenda la forma dello stampo. Macchinari grandi. Questa grande fabbrica è però ferma perché siamo qualche giorno nelle festività di fine anno e quindi c'è un periodo di chiusura. Allora che cosa si fa nelle grandi fabbriche? Si chiede a delle aziendine locali di fare degli interventi di manutenzione perché la fabbrica è ferma, le presse sono ferme e ovviamente sono lavori che si possono fare solo quando gli impianti sono fermi. Una piccola azienda vince l'appalto e manda una squadra di quattro manutentori, cui tre sono ultra cinquantenni e uno un ragazzo giovane di 28 anni. Vanno in questa fabbrica e ovviamente devono fare questi interventi ma il loro datore di lavoro che avrebbe dovuto fare e anzi presenta il cosiddetto piano di sicurezza, il che vuol dire i lavori di manutenzione sulle presse devono essere fatte secondo certe procedure, secondo certe modalità e fa un piano di sicurezza che si capirà poi dopo e solo sulla carta. Perché? Perché lo fa formale ma non si accerta, non verifica, non valuta come funzionano effettivamente le presse, non dà le istruzioni. La morale della favola che cos'è? Che i quattro manutentori vanno in questa fabbrica deserta, devono fare questo intervento di manutenzione di queste grandi presse, iniziano la prima della grande presse, ma non hanno realmente dell'istruzione, hanno un piano di sicurezza che è carta. Vanno e si ingegnano, la loro sicurezza è rimessa loro stessi. Incominciano, tirano su la parte sopra, la parte sotto, puntellano la parte alta della pressa grande con dei pali di legno, con dei cunei di legno. Il più giovane decide di inserirsi per smontare alcune parti che sono più lontane. Di colpo il legno si schianta, la parte alta crolla. Vedova, orfani, genitori dolenti, risarcimenti. Terzo caso, terzo caso. Questo è molto particolare, tocca forse più ancora i giovani che vedo con piacere essere presenti. Terzo caso è questo. Siamo una grande azienda che produce vetture sportive e di lusso. Fanno, ovviamente, gli ingegneri hanno un ruolo molto importante. C'è un gruppo di ingegneri, giovani ingegneri, che ha contribuito alla realizzazione di un nuovo modello. Un modello che è destinato, circola sulle nostre strade, lo si vede. Il loro dirigente decide di premiarli, premiare questo gruppo di giovani dirigenti e gli fa fare e organizza un drive day. Che cos'è il drive day? Il drive day è una giornata di guida che ha una funzione di collaudo in ottica cliente delle cosiddette preserie di vetture. Sono vetture, non sono prototipi, sono le vetture che circoleranno poi normalmente su strada, ma sono ancora in quella fase di preserie per cui il collaudo viene fatto nell'ottica cliente, il che significa? che chi la guida deve comportarsi esattamente come un cliente. Il luogo di collaudo è una pista, qui situata in Piemonte, che ha le caratteristiche proprio del percorso estruurbano tradizionale. Questo circuito che si chiama Langhe addirittura, proprio perché simula salite, discese, curve, tordanti. Giornata bellissima, divertente, questi giovani ingegneri si mettono alla guida di questa vettura sportiva, vanno, pochi minuti, mancano tre giri, finisce la sessione, ci sono ancora tre giri da fare, gli ingegneri si interrogano, ma chi li fa il più giovane? 28 anni, siamo qualche giorno prima di Natale. Dice, lo faccio io, lo faccio io. Parte, prima curva, un botto, uno schianto, l'auto esce di strada, scavalla il guardrail, si schianta contro un albero. Parte immediatamente, c'è un scenario tragico, la storia familiare è terribile, lui si era appena sposato, lascia una vedova dopo pochi mesi di matrimonio, due genitori distrutti che hanno già perso, un altro figlio in circostanze tragiche. La ricerca dei responsabili è spasmodica da parte di questi congiunti, perché non riescono a rassegnarsi a un destino così duro. Parte un'indagine penale, si cerca il responsabile, si va a cercare se il collaudatore, anzi, se il progettista che aveva fatto quella pista 50 anni prima, ormai un vecchietto in pensione, abbia fatto effettivamente bene il progetto, la curva, il guardrail, fosse a norma, non fosse a norma, se il dirigente che aveva organizzato avesse effettivamente fatto e chiarito bene come doveva essere il drive day, se i proprietari della pista avessero badato e fatto la formazione e i briefing necessari. Il processo si conclude, dolorosissimo per tutti, si conclude con delle assoluzioni, perché? Perché che cosa emerge? Emerge dalle centraline di cui ormai tutte le auto sono dotate, dalla ricostruzione dei tecnici, che l'evento è andato così. L'ingegnere è partito, quel circuito, quella pista ha, come vi ho detto, le caratteristiche di un circuito extraurbano, in quella curva la velocità d'ingresso non può essere superiore a 90 km orari, perché c'è un cartello che lo dice chiaramente, in uscita deve essere 50 km orari. L'ingegnere è entrato a 148 km orari, ha perso il controllo della vettura, ha sbattuto contro il garrail di destra, ha cercato disperatamente di controsterzare, ha sbattuto contro il garrail di sinistra che ha fatto da leva, vista la velocità, si è proiettato ed si è schiantato contro un altro. Eccessivo affidamento in se stesso e sulle proprie capacità. La sintesi e chiudo. Come dicevo, ciò che è prevedibile è anche normalmente prevenibile. Non c'è nessuno di questi eventi che non avesse i suoi margini di prevedibilità. Tutti avevano la prevedibilità e tutti sarebbero stati prevenibili. Ma che cosa è successo? Che probabilmente quello che si è fatto da parte di chi lo ha fatto non è stato fatto pensando a ciò che stava facendo. È stato fatto sottovalutando quelle che avrebbero potuto essere le conseguenze delle negligenze. Ecco, un solo insegnamento mi posso permettere di dare perché è una sola cosa che ho imparato a mie spese perché questi fatti hanno un coinvolgimento emotivo anche per gli avvocati che sono normalmente civi, cinici, che fanno questo molto spesso per denaro. Però vi posso dire, ho imparato questo, che bisogna fidarsi degli altri ma per prima bisogna garantire agli altri che si possono fidare di noi e noi stessi dobbiamo poterci fidare di noi. Grazie.